Si parte ufficialmente per scrivere una nuova storia per Fossombrone. Con questo messaggio è stato annunciato il primo consiglio comunale che si svolge questa sera nella sala del municipio, dove il sindaco Massimo Berloni farà il suo giuramento e nominerà ufficialmente la squadra di lavoro. Siamo pronti a scendere in campo a fare la differenza, hanno aggiunto in un post pubblicato sui social e il noto imprenditore della moda e della ristorazione ha composto il suo staff confermando, come da previsioni, il ruolo di Michele Chiarabilli, che con il record di preferenze ben 930 sarà il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, urbanistica, cimitero e commercio. A Laura Giumbini invece è stata assegnata la delega ai servizi sociali, a Maurizio Mezzanotti il bilancio e i rapporti con le associazioni, con le società concessionarie di servizi e con le attività economiche produttive. Infine a Federica Rumiti vanno le politiche giovanili, la semplificazione, i gemellaggi e il turismo. Sindaco, in base a quali criteri ha scelto la sua squadra di governo? In base ai voti che ognuno dei nostri componenti della lista ha ricevuto, perché è anche un segno di democrazia nel rappresentare la volontà dei nostri lettori, sicuramente anche tenendo conto dei propri valori e delle loro capacità. Terrà qualche delega per sé? Per il momento ne terrò molte, perché mia intenzione poi in funzione al tempo e alla disponibilità di tutta la squadra che lavorerà intorno a noi conferirò questo in un secondo tempo. La sanità rimarrà tra queste? La sanità rimarrà tra queste, credo che sia un obbligo reale che il sindaco deve tenersi. Questa sera si riunisce il consiglio comunale e che cosa c'è all'ordine del giorno? Ci sono tutte le formalità ovviamente da spettare nella prima seduta, c'è un piccolo cambiamento anche dello statuto comunale che in qualche maniera le modifiche consistono soltanto nel poter dare appunto mansioni e incarichi anche ai consiglieri, perché questi abbiamo bisogno, più gente lavora e prima arriviamo al traguardo, e la figura del Presidente del Consiglio che fino ad oggi non era prevista. Elemento importante per fluidificare e migliorare quello che è tutto l'aspetto burocratico all'interno di un'amministrazione. Su quali settori punterete nei prossimi mesi? Sul sociale, come abbiamo promesso fin dall'inizio, sui giovani, parte fondamentale per questa comunità, sui lavori pubblici, sull'aspetto anche del decoro della città, che da fin troppo tempo è un po' statica, e soprattutto anche sulle scuole, devi dargli un aspetto e una dignità consona a Forsembrone.